Al via Oggi la zona traffico limitato nel centro storico di Sciacca la rientra è stata quella nota da anni che comprende il corso Vittorio Emanuele e la via Giuseppe Licata. Arterie che rimarranno chiusa al transito veicolare dalle ore 19 all'una oggi e domani e poi venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 luglio. In questa prima fase infatti il centro storico di Sciacca sarà Isola Pedonale solo nel fine settimana. A partire dal 29 luglio fino al 31 agosto invece la chiusura al transito veicolare sarà in vigore tutti i giorni e dalle ore 19 fino alle 2. A settembre la ZTL tornerà ad essere attiva soltanto il fine settimana, venerdì, sabato e domenica e nuovamente dalle ore 19 all'una. Per tutto il periodo di chiusura del centro storico è previsto il divieto di sosta a partire dalle 18.45 nella via Licata, tratto intersezione con la via Molinari con incrocio via Roma. Il divieto di transito nella zona traffico limitato è previsto per tutti i veicoli, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di polizia, per i mezzi di trasporto pubblico e i veicoli al servizio dei cittadini diversamente abili, consentito l'accesso ai residenti muniti di apposito pass. La ZTL viene attivata senza l'ausilio dei due varchi elettronici già da tempo collocati ma ancora inutilizzabili, dunque transenne e agenti della Polizia Municipale a controllare e impedire l'accesso all'area pedonale ai non autorizzati. L'ordinanza della ZTL è stata approvata giovedì scorso e fa seguito alla decisione assunta la scorsa settimana di chiudere in maniera permanente la via Roma. Nel giorno in cui scatta la zona traffico limitato, intanto l'amministrazione comunale ha ufficializzato la decisione di togliere i divieti di sosta nel piazzale Angiola Bisso e nel viale delle Terme, provvedimento assunta a seguito di un sopralluogo del sindaco Termine, degli assessori Gulotta e Pacchi e del comando della Polizia Municipale. Si recuperano così circa 200 posti auto al servizio del centro storico che rimarrà interdetto al transito veicolare in un'area che consente in meno di 5 minuti di arrivare in corso Vittoria Emanuele o Via Licata. Nei prossimi giorni si procederà al rifacimento della segnaletica orizzontale nel viale delle Terme e nel piazzale Abisso per facilitare l'individuazione dei posti auto. Sarebbe auspicabile anche una sistemazione dell'area di parcheggio a ridosso del Teatro Samonà che versa in condizioni indecenti.